Allora, sono a Napoli Centrale, sono alle 18.20, ho messo per pochi minuti un treno, l'Apoli Cidade Trenitalia, ma ho fatto un biglietto con un sconto che avevo di 15 euro per ItaloTren, invece per pagarlo 39 euro, Napoli-Roma, l'ho pagato 23 euro e parto alle 18.45 con destrazione Roma-Tipultina e fa una fermata prima a Roma Termini. Adesso circa un 20 minuti in stop, il tempo per un caffè, il treno non ce n'è ancora, come potete vedere, solitamente parte da, ho detto, gli ultimi binari di Napoli Centrale. Ci riaggiorniamo a quando sarò sopra il treno.